un milione di euro, in più, oltre tutto quello che prendiamo. E' stata aperta un'istruttoria ed è stata aperta la Camera dei Deputati e oggi lo stanno facendo anche al Senato perché Roberto Figo è diventato il presidente della Camera dei Deputati e ha detto allora che cosa ci vuole per togliere gli analizi? Apriamo un'istruttoria, ditemi dove devo andare a incidere. Basta una delibera. E allora se basta una delibera, se basta cominciare a guardare il paese non perché devi farti rileggere tra cinque anni ma perché vuoi lasciare al paese qualcosa che possa raccontare di come si può governare di come non è vero che questi sono posti dimenticati di come non è vero, io mentre attraversavo il Molise ho pensato ma se avessimo puntato in questi venti anni nei quali si sono guardati i beati fatti loro al turismo, all'agricoltura, al fatto che la gente viene qui e trova un paese che non esiste in nessun'altra parte del mondo in regioni verbi, belle, dove ci sono le montagne, dove c'è tutto eppure piano piano ti hanno fatto sentire che invece non c'è niente beh, io partì con un famoso niente e lo dicevo a loro non siete niente, eppure sono coloro che ci hanno impedito fino adesso di poter ridare un altro passo a questo paese beh, voi avete un'occasione che io credo che sia unica sia unica per il momento politico sia unica per il momento storico di un paese che può cambiare finalmente e cambiare pagina per sempre io non ve la fate scappare non permettete a nessuno di farvi svegliare lunedì con lo stesso identico sistema che state combattendo diterò a chi conoscete, diterò ai vostri amici diterò a chiunque oggi ancora senza che chi ha nominato il paese lo possa cambiare io ho conosciuto Andrea conosco ogni ragazzo che ha cominciato con me questa avventura conosco coloro che sono all'interno delle istituzioni i consiglieri comunali quelli che ci mettono la faccia ogni giorno nei consigli nonostante siano opposizione nonostante siano solamente uno conosco i ragazzi del meetup che stanno lì con i banchetti che ogni giorno vi raccontano che cosa facciamo beh, per loro, per i vostri figli per voi che siete qui in questa piazza per voi che avete voglia di cambiare io vi faccio il miglior augurio che è lunedì sia un lunedì meraviglioso grazie Campobacco, grazie Morite e adesso, dopo di me è una delle persone che ha dato di più a questo movimento è un uomo che ha saputo dimostrare che si può stare fuori da quei palazzi e continuare a aver voglia di fare politica perché la vera politica non è nei palazzi è qui in questa piazza ed è con Alessandro Di Battista grazie buona sera a tutti e grazie grazie a te quante persone, scusate, è la prima volta che vengono in piazza per un evento di 5 stelle? sulle mani, coraggio non da vergognare benvenuti dove stavate prima? a guardarti su Instagram benvenuti io ho belle sensazioni sotto vari punti di vista questo è Molise è una regione splendida piuttosto abbandonata e potrebbe diventare me lo auguro con tutto il cuore anche perché ho conosciuto bene Andrea la prima regione amministrata dal Movimento 5 Stelle oggi è una giornata storica qualcuno è venuto qua per sentirmi commentare Berlusconi e non mi interessa vogliamo alti vogliamo molto alti è piuttosto nervoso ma oggi c'è stata una sentenza storica che ha dimostrato l'esistenza di una trattativa tra parti dello Stato e l'organizzazione che ha fatto saltare Falcone e Borsellino ma anche ha ammazzato tanti altri cittadini considerate che il 93 mentre pezzi dello Stato tra cui il fondatore di Forza Italia Dell'Utri scendevano a patti di fatto con Cosa Nostra Cosa Nostra uccideva anche a Firenze una bambina di 50 giorni Caterina si chiamava una neonata di 50 giorni in quei giorni in cui mentre c'erano dei giudici disposti a morire per la legalità per l'onestà e per combattere la mafia altri pezzi dello Stato e qualche politicante era appunto intenzionato a scendere a compromessi con questa organizzazione il Movimento 5 Stelle è fiero di aver portato avanti certe battaglie siamo stati gli unici nella ultima campagna elettorale per le politiche aver parlato di mafia perché la mafia è una montagna di merda e va contestata sempre sempre ad un atteggiamento di legalità e di intransigenza per quanto riguarda il Molise se ci sono persone che non conoscono il Movimento e che magari l'hanno conosciuto attraverso una narrazione distorta da parte di alcuni organi di informazione siamo persone normali come voi questi sono per me i primi comizi da non più parlamentare per cui devo stare attento alle parole perché non ho più l'immunità a me non me ne frega niente ma questo è il Movimento persone dentro le istituzioni come Paola Taverna vicepresidente del Senato come Luigi Di Maio speriamo con tutto il cuore futuro presidente del Consiglio come me come tutti voi che siamo dei cittadini normali che stiamo combattendo appunto per un paese normale questa regione può diventare una regione normale dipende soltanto da noi dalla nostra voglia anche di impegnarci in queste ultime ore io ho conosciuto bene Andrea l'avete visto gli attacchi scomposti che ha ricevuto lui e la sua famiglia c'è anche il papà a cui faccio un grande applauso al papà di Andrea tutti gli attacchi che ricevede in queste ultime ore sono dimostrazione della paura perché un gruppo di politicanti molisani ha paura di perdere il vitalizio e sarà che sarà un piacere direi fisico eliminargli questi 3 milioni e 300 mila euro che si intascano ogni anno di vitalizzi quando ci sono molisani che campano con 400 euro di pensione non le dite queste parolacce lasciatemele dire a me le parolacce io so che anche qua in questa terra come a Roma come nel nord Italia come in Sicilia come in tutta Italia esiste il cancro del voto di scambio lo so con Luigi facevamo l'estate scorsa una splendida campagna elettorale in Sicilia ed eravamo convinti di riuscire a vincere e vi dico la verità questo è quello che penso io senza il voto controllato il voto di scambio avremmo vinto in Sicilia e la dimostrazione vivente è che ne stanno arrestando vari questa settimana hanno arrestato un esponente appunto di questa coalizione centrodestra per voto di scambio sapete io ricordo un episodio l'estate scorsa che sto raccontando spesso stavo a Messina in un autogriglia mi esavvicina un tizio mi fa vedere il braccialetto del Movimento 5 Stelle uno super del Movimento mi fa vedere il cellulare guarda io condivido tutti gli interventi tuoi di Luigi proprio un attivista super super del Movimento gli dico beh dai che domenica possiamo vincere si votava dopo qualche giorno e lui mi fa io non posso votarlo il Movimento io come me lo puoi votare se non voto genovese un candidato tra l'altro figlio di uno che era parlamentare in questa legislatura arrestato il padre stava nel PD poi è passato in Forza Italia arrestato in quanto si è fregato i fondi per la formazione professionale di giovani siciliani poi dicono che c'è sta disoccupazione al sud ecco lui mi disse se non voto genovese perdo il lavoro cioè esiste anche questo una Repubblica che era fondata sul lavoro che è stata trasformata sul ricatto o ancora di più trasformata in una Repubblica dell'asfalto elettorale ci sistemano una strada due settimane prima delle elezioni salvo poi sparire nei cinque anni successivi allora io vi dico due cose la prima se certi politicanti sono così scaltri subdoli da provare a comprarsi il nostro voto con il voto di scambio qualche giorno prima di essere eletti cosa saranno capaci di fare dopo essere stati eletti e la seconda cosa in questa regione il meccanismo è lo stesso anche che hanno portato avanti in Sicilia il Movimento va da solo perché va da solo perché in caso di vittoria avremo una squadra di persone capaci compatte come è compattissimo il gruppo parlamentare il nostro il Parlamento capaci di risolvere quei problemi avendo come Stella Polari il programma con il quale si sono presentati durante le elezioni e che presentano sempre esclusivamente nelle piazze perché le piazze sono belle le piazze non mentono c'è possibilità di interscambio ci si guarda in faccia e si capisce quello che siamo tutti quanti noi questa è la possibilità di vincere da soli cosa hanno fatto tutti gli altri hanno fatto delle aggregazioni delle accozzaglie di liste sono nove il centrodestra ne ha nove contro di noi non riescono manco a riempire metà della piazza a qualche decennio nonostante tutti i poliziotti le scorte che non sono venuti a difendere Berlusconi e i cittadini ma i cittadini da Berlusconi che è diverso vi dicevo è questo il sistema candidare tante tante persone quanti sono i candidati Andrea contro di noi 180 cosa significa che magari ognuno di noi c'è un parente o un amico alla lontana candidato in qualche lista contro il Movimento 5 Stelle e che fanno lo sanno di non essere eletti però cercano di portare qualche voto in più agli stessi i politicanti che hanno massacrato il Molise e vengono da noi a dirci dai lo so che magari non sei d'accordo questo e quest'altro ma io sono tuo parente oppure io sono un amico oppure io sono un amico di un tuo amico io sono un tuo lontano parente mi chiamo come te questo è il gioco e qualcuno di noi magari ancora ci casca perché dice che non fa che non glielo do il voto al parente mio che non la penso come lui ma poi è complicato sarà complicato a Natale a Pasqua quando mangiamo assieme e festeggiamo assieme ecco con gli amici e i parenti ci si passano le vacanze assieme la Pasqua il Natale ma se un amico o un parente fa parte di quello schieramento che ha distrutto la sanità molisana distrutto la possibilità di accesso all'istruzione distrutto il lavoro in questa terra anche se è parente e amico lo si manda a fanculo non lo si volga grazie vi dico questo e concludo qua c'è la possibilità poco a poco di rendere questa regione normale investendo sui servizi tagliando i costi della politica rompendo il legame tra qualche grande finanziatore e qualche politicante il legame che hanno certi politicanti con il sistema sanitario privato per questo lo distruggono la sanità pubblica perché ha autointeressi loro nella sanità privata c'è questa possibilità di riscatto e questo è un dovere del popolo italiano perché dobbiamo impegnarci tutti noi smettendolo una volta e per tutto di lamentarci perché è intollerabile la lamentela se si votano gli stessi aguzzini che ci hanno messo in queste condizioni e smettere una volta per tutte di accontentarsi delle mancette delle lemosine dei bonus che non servono a nulla sono metadone sono anestesia collettiva gli servono soltanto per azittirci per tenerci buoni ci fottono un diritto però ci danno un bonus e più ci fregano i diritti più pensano di comprarci con un bonus l'hanno fatto su tutto su tutto in questi 30 anni approvando le peggiori porcate quando tra l'altro l'attenzione dell'opinione pubblica magari scende un po' hanno approvato le peggiori porcate il 14 agosto il 23 dicembre lo fanno scientificamente quando il popolo italiano abbassa un po' l'attenzione lì ci fregano un diritto quando invece alziamo l'attenzione e riempiamo piazze come in questo modo sono spaventati dalla perdita di consenze e quindi provano a comprarci con qualche mancetta elettorale questa è la politica loro ci primano di un diritto e ci erargiscono un bonus ci hanno tolto il diritto al lavoro perché la disoccupazione è vergognosa inaccettabile in questo paese però ti danno il bonus 80 euro salvo poi togliertelo magari dopo le elezioni dopo averle vinte ti tolgono il diritto all'istruzione perché è sempre più complesso per tanti tanti ragazzi pagarsi le tasse universitarie anche votare questa è un'altra cosa vergognosa che i giovani fuori sede non sono messi in condizione di esprimere tra l'altro il loro dovere quello di votare non c'è mai questa possibilità ti tolgono questo diritto allo studio ma pensano di comprare i ragazzi con i bonus studenti 500 euro comprati l'ipad ti voglio distratto non interessarti alla politica la politica è una cosa che non ti appartiene ce ne dobbiamo occupare soltanto noi politicanti e professionisti questo è il loro scopo quello di impedirci di dedicarci alla politica perché un popolo che non si dedica alla politica di fatto è un popolo che si fa manovrare dai professionisti della politica invece la politica è bella è stupenda è la più grande passione della mia vita la farò sempre per tutta la mia vita al di fuori si delle istituzioni perché ho fatto questa scelta ma non cambia nulla la logica del movimento è questo per mettere a cittadini incensurati senza grandi finanziatori alle spalle che portano avanti delle idee di buonsenso di entrare nelle istituzioni e combattere per il benessere generale per l'interesse collettivo a partire dalle esigenze degli utili di coloro che sono abbandonati in questa terra in questa regione in tutto il paese i pensionati minimi i cinquantenni che perdono un lavoro e diventano fantasmi neanche più l'Istat calcola i suicidi per ragioni economiche e ci sono ancora in questo paese cosa fa un cinquantenne o un sessantenne che perde il lavoro e osano osano considerare il reddito di cittadinanza ma no una manovra economica che serve serve essenzialmente per impedire la morte sociale dei cittadini osano nominarla e chiamarla assistenzialismo osano attaccare il movimento 5 stelle definendoci un partito di disoccupati quando sono loro ad aver aumentato la disoccupazione in questo paese e gli insegnanti come vengono trattati come vengono trattati uno dei misteri più importanti del mondo gli insegnanti così anche tu professoressa non disturbare il manovratore non ti interessare di politica prenditi il bonus insegnanti e stai zitta non mi disturbare e massacrano la scuola pubblica così ci sarà un popolo sempre più ignorante da poter essere manipolato dagli stessi sistemi di informazione che controllano alcuni partiti politici sempre nero perché il movimento ve l'ho dipennato per questo per rompere con l'intermediazione perché intermediare è sempre una forma di esercizio del potere è nato per rompere questa intermediazione tra cittadini e istituzioni non siamo elettori siamo datori di lavoro dei politici ai quali gli paghiamo gli stipendi siamo il popolo sovrano è servito il movimento anche a rompere un'intermediazione mediatica con la rete facciamo tante cose e abbiamo sempre scelto la piazza ogni giorno io e Morice sono venuto tantissime volte durante la referendum durante tantissime campagne elettorali anche quando non vi era una campagna elettorale perché la politica va fatta sempre questa non so quante persone ci sono Luigi e Andrea è una cosa incredibile questa piazza oggi è incredibile ci privano di un diritto e ci danno un bonus io vi dico che è sventurato un popolo che si accontenta dei bonus e delle mancette quando hai il dovere insieme tutti assieme perché insieme siamo una forza enorme di rivendicare diritti diritti sociali ed economici soprattutto in questo momento perché ne siamo privati questo dobbiamo fare scegliete voi in che modo in che forma noi vi diamo questa opportunità un'opportunità che ci prendiamo assieme di poter riscattare una regione poco a poco non sarà facile dopo 30 anni di abbandono poco a poco togliere un potere quasi aristocratico che hanno alcuni politicanti e farai nomi e cognomi Andrea l'unica cosa che non c'è che un tempo c'era l'aristocrazia di sangue qua c'era l'aristocrazia degli appalti degli interessi dei finanziatori di questi politicanti che continuano a trattare il Molise come un possedimento personale però probabilmente gliel'abbiamo concesso noi gliel'abbiamo permesso noi quando ci siamo disinteressati alla vita politica quando abbiamo abbassato la testa quando ci siamo lasciati accontentare appunto da briciole dipende soltanto da noi io vi dico forza Molise perché questa regione diventerà la prima regione amministrata dal Movimento 5 Stelle viva Molise Matteo mi presento e dire Luigi Di Laio poraggio a Luigi buonasera a tutti buonasera grazie grazie davvero di essere qui io vi chiedo di dare lo stesso calore che state dando stasera ad Andrea anche da lunedì quando probabilmente sarà presidente della regione Molise dipende da voi dipende da quanto ci crederete ma non crederete a noi crederete in questo progetto in quest'idea in questi anni come movimento abbiamo avuto alti e bassi ci sono stati dei momenti in cui le persone ci credevano un po' meno nell'idea di poter cambiare le cose con una rivoluzione gentile attraverso gli strumenti della democrazia e altri momenti in cui abbiamo avuto un sostegno incredibile quando le persone ci hanno creduto fino alla fine abbiamo battuto anche corazzate con dieci liste ammucchiate da sette otto liste siamo riusciti a diventare la prima forza politica del paese con micro donazioni da ventinove euro a testa di migliaia e di italiani che hanno finanziato la campagna elettorale delle ultime politiche siamo stati in grado di fare cose incredibili abbiamo battuto tante coalizioni con una lista quindi non ci diamo alibi morali non prendiamo scuse e non accampiamo scuse per non andare a votare domenica e dire ma tanto vincono sempre gli stessi quando i cittadini hanno voluto ci hanno fatto battere tutti quanti gli altri ed è successo anche nelle ultime elezioni politiche con tutti contro in questa regione un cittadino su due ha votato per il movimento sono stati anni nei quali io ho avuto l'onore di partecipare ai momenti più belli del movimento c'era sempre da scegliere la strada maestra e la scorciatoia e in questi anni stando in Parlamento tutti ci dicevano prendi la scorciatura prendi i rimborsi elettorali fai pure tu una coalizione sapete quante volte venivano deputati di altri gruppi parlamentari a dirmi io ho 30.000 voti candidami e io dicevo ma che ti dovevo candidare cioè i 30.000 voti chissà dove vai a prenderci fai passare pure un guaio con il modo che utilizzi di prendere questi voti ma erano tutti increduli nell'idea che si potessero rifiutare queste offerte prendi i rimborsi elettorali fai anche tu la coalizione adesso sei il capo politico del movimento approfittane metti insieme un po' di liste civette di quelle fasulle quelle che si chiamano liste civiche ma in realtà non lo sono mai sono solo dei marchi creati a tavolino tre mesi prima delle elezioni che scompaiono il giorno dopo oppure mi dicevano cominciate a prendervi tutto lo stipendio cominciate a fare come gli altri perché così si fa politica e man mano che rifiutavamo la scorciatoia e prendevamo la strada maestra noi andavamo sempre più avanti e vedevo gli altri scomparire diventare sempre più piccoli sempre più piccoli e così è stato ovviamente si è data abbastanza enfasi al risultato delle politiche però non si è raccontato una cosa che ci sono state delle forze politiche a queste elezioni che hanno speso 6 milioni di euro di campagna elettorale per stare sotto il 3% noi in tutto di donazioni da tutta Italia migliaia di italiani abbiamo messo insieme 800 mila euro e abbiamo preso il 32,5% abbiamo fatto un conto che ogni voto è costato 3 centesimi quindi fuori mercato nessuno può pensare che si potessero prendere in altro modo eppure ce l'abbiamo fatta e adesso vale anche per questa regione come vale per il governo centrale io ve l'avevo detto avreste eletto prima voi il governo regionale e poi avremmo formato noi il governo nazionale ma eleggendo Andrea Greco alla presidenza della regione lunedì dovete sapere che dopo poco il Movimento 5 Stelle non avrà dalla sua per i molisani solo il governo di questa regione ma presto avrà anche il governo di questa nazione è solo questione di tempo e soprattutto dobbiamo tenere duro io ve lo dico chiaramente perché in questi giorni stanno succedendo cose strane del tipo Luigi ma fallo la Valleanza di un Berlusconi diventi presidente del consiglio dei ministri cedi cedi e vedi che ce la fai ma noi non siamo questi non siamo quelli che vogliono andare al governo a tutti i costi noi siamo quelli che vogliono andare al governo con un governo fatto bene che sia in grado di cambiare tutto altrimenti non ne vale neanche la pena ve lo dico io qui che sono quello che potrebbe avere più ambizioni e ve lo dico perché con quale faccia venivo in questa piazza facendo un accordo con Silvio Berlusconi dopo tutto quello che è successo oggi a Palermo che ha sancito che lo Stato ha trattato con la mafia nei giorni in cui si uccidevano Falcone e Borsellino come potevo venire qui a dirvi che siamo quelli di prima e allora qua non è una questione ve lo voglio dire di impuntarsi noi dobbiamo mantenere la nostra coerenza e la nostra linea e questo è molto importante perché è quello che ci ha premiato in tutti questi anni anche quando eravamo in difficoltà c'è stato un momento dopo le elezioni politiche del 2013 che dal 25% eravamo intorno al 15 al 16 e tutti ci dicevano mollate trovate un modo la scocciatoia e anche adesso l'obiettivo è provare a farci diventare quella politica che abbiamo già visto e che in questi anni abbiamo combattuto invece noi dobbiamo imporre il metodo perché se dobbiamo formare questo governo non lo dobbiamo formare con un accordo di potere o un accordo sulle poltrone ma su un contratto che riguarda voi i vostri problemi e le soluzioni ai vostri problemi e non è semplice perché ci sono due narrazioni in questi giorni una è quella il movimento è disposto a tutto pur di andare al governo allora vi stanno facendo credere che vogliamo aumentare la spesa militare che siamo pronti ad accordarci con chiunque che siamo pronti a svendere i nostri valori e vi posso assicurare che le persone che avete visto su questo palco e tante altre che oggi stanno in Parlamento nei consigli comunali nei consigli regionali che sono sindaci in Parlamento europeo non hanno mai tradito il movimento perché chi tradisce questo progetto va fuori dal movimento 5 Stelle ci vedete dentro e ti porta avanti una linea chiara che è quella che abbiamo sempre portato avanti e poi c'è l'altra idea no ma siete troppo rigidi e allora siccome dite qualche no allora siete troppo rigidi e vi meritate di fallire io in tutti questi anni ho visto la vittoria ogni qual volta ho utilizzato quella rigidità per difendere i nostri valori il nostro progetto e la nostra storia e sarà anche questa volta così perché io ve lo dico presto torneremo qui con un governo nazionale del movimento 5 Stelle così da poterci aiutare e mettere mano ai grandi problemi possiamo solo tenere duro perché è molto importante mantenere quella che è la nostra coerenza voglio dirvi anche qualche parola su un'altra forza politica però vorrei dirvela senza polemiche vorrei dirvi qualcosa qui su una questione che stiamo affrontando ormai da 30 giorni io ho proposto un contratto di governo sul modello tedesco che è uno strumento che utilizzano in Germania quando non si riesce a formare un governo e allora due forze politiche si mettono ad un tavolo scrivono di fronte ai cittadini le cose da fare firmano un contratto davanti ai cittadini su quelle cose da fare e poi si impegnano con un governo a realizzarle il primo che non fa quelle cose fa cadere il governo e si torna a votare questo è un meccanismo che io ho proposto anche alla Lega e l'ho chiesto a Matteo Salvini e ho detto chiaramente io comprendo benissimo che tu venga da una coalizione cosiddetto di centrodestra comprendo che avete una storia e ho cercato insieme a tutti quanti gli altri di andargli anche incontro per provare a firmare questo contratto per abolire la legge Fornero per ridare i soldi alla sanità per mettere in piedi il reddito di cittadinanza per rimettere in moto gli investimenti soldi alle forze dell'ordine e voglio continuare a farlo senza polemiche non voglio fare polemiche però deve capire che oltre determinati limiti noi non possiamo andare e quel limite oggi si chiama Silvio Berlusconi a maggior ragione dopo la sentenza di Palermo dopo quello che è successo a Palermo che cosa dobbiamo fare io sono nella provincia di Napoli sono campano siamo terre molto simili che hanno problemi molto simili prima di tutto una cosa non sopporto quando ci fanno passare per quelli che vogliono i soldi senza far nulla queste elezioni politiche hanno visto il Movimento 5 Stelle vincere al nord e al sud ma si è raccontato solo del sud e si è detto che quelli del sud avevano votato il Movimento perché volevano i soldi per starsene sul divano perché volevano i soldi per non fare nulla trattandoci da miserabili quali non siamo mai stati rispetto a quelli che ci hanno sempre trattato così noi non abbiamo mai chiesto soldi senza far nulla siamo il popolo delle imprese siamo il popolo dei piccoli artigiani siamo il popolo dei dipendenti che si sentono imprenditori lavorando nei negozi lavorando nelle imprese come partite IVA come professionisti siamo il popolo che lavora o che addirittura prende una pensione e con quella pensione mantiene il proprio figlio e il proprio nipote in attesa che un ufficio di collocamento si degni di fare il suo dovere un ufficio di collocamento quando si è raccontato del reddito di cittadinanza lo si è voluto far passare come la gente che voleva i soldi noi qui non pretendiamo soldi noi qui pretendiamo dignità e dignità significa che se io pago il 70% di tasse come si pagano in Italia i servizi me li devi garantire non me li devi svendere ai privati e allora in un paese come il nostro qualcuno dirà ma c'è un problema non ci sono i soldi dobbiamo svendere la sanità non ci sono i soldi dobbiamo svendere la scuola non ci sono i soldi e tagliamo i servizi sociali comunali non ci sono i soldi e allora non mettiamo a posto le strade ma che succede se poi scopri che per esempio solo la Camera dei Deputati spende 180 milioni di euro all'anno in vitalizia degli ex parlamentari che succede se scopri che hai miliardi di euro di enti inutili che non hanno neanche i dipendenti a volte hanno solo i consigli d'amministrazione per piazzare la gente dentro che succede se guardando il bilancio dello Stato li trovi quei soldi hai due possibilità nasconderli o cominciare a dire agli italiani che sono stati truffati fino ad ora ed è il momento di andarci a prendere i nostri soldi dagli sprechi e rimetterli nei servizi che servono nei servizi fondamentali alla libertà e all'eguaglianza per gli italiani e io credo che questo faremo lo faremo con Andrea Greco in questa regione e lo faremo dal governo della nazione ci andremo a riprendere i nostri soldi e Paola Taverna prima vi stava raccontando di una cosa che sembra una cosa banale a me dispiace se avete visto negli ultimi mesi negli ultimi settimane discutere il movimento molto di incarichi e di cariche il presidente della camera i questori i vicepresidenti mi dispiace però sappiate che quel lavoro che abbiamo fatto è servito a comporre il consiglio di amministrazione della camera e del senato che si chiamano ufficio di presidenza e consiglio di presidenza e alla camera dei deputati con Roberto Figo presidente e il questore anziano Riccardo Fraccaro finalmente dopo 30 anni è stata avviata l'istruttoria per tagliare i vitalizi e gli ex parlamentari e questo è solo l'antipasto di quello che saremo in grado di fare una volta al governo allora è questo il nostro metodo lo stiamo già applicando lo applicheremo ancora ma quei soldi dove li dobbiamo mettere? li dobbiamo mettere in tre progetti fondamentali uno per i nonni uno per i figli e uno per i genitori in questo paese i nonni sanno che se nascono i nipoti loro potranno non avere la pensione come i nipoti sanno che se i nonni prendono la pensione tutta la famiglia sta meglio perché sono il nostro ammortizzatore sociale molto spesso e li ringrazio io li ho persi molto presto ai nonni ma so che valore hanno nella nostra società allora questo Stato che deve fare? deve curare queste tre persone non esiste che uno Stato dia una pensione minima sotto la soglia di povertà è uno Stato incivile se stiamo nell'Europa e l'Eurostat ci dice che la soglia di povertà è 780 euro al mese al di sotto della quale non arrivi a fine mese come singolo individuo non deve mai più esistere un pensionato minimo che prende meno di 780 euro al mese due tutti parlano di crescita economica ma c'è una crescita demografica da curare perché qui non nascono più i figli siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa il primo è la Francia e la Francia riesce a raggiungere questi risultati perché in Francia quando ti nasce un figlio lo Stato ti paga babysitter assino nido pannolini ti dà una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione fino al terzo figlio e allora sai che quando metti al mondo un figlio puoi garantirgli un'esistenza serena perché hai uno Stato dalla tua parte e noi il modello di welfare francese per le famiglie che fanno figli lo dobbiamo importare in Italia perché se continuiamo così saremo nel 2050 il terzo paese più anziano del mondo e non avremo più soldi per pagare pensioni sanità per pagare la scuola e poi c'è un'altra cosa il padre o la madre di famiglia che ha una famiglia che ha dei figli e perde il lavoro ha il diritto di avere un sostegno mentre si forma per entrare in un altro lavoro perché il vero grande problema è che qui ci hanno messo in condizione di dover accettare qualsiasi tipo di lavoro perché quando lo perdi non hai neanche un'ora di tempo per respirare prima di trovarne di cercartene un altro e non funziona così negli altri paesi europei negli altri paesi europei se tu perdi il lavoro hai due figli e tu e tua moglie non avete il lavoro lo Stato ti chiama ti dà un reddito ti forma per i lavori che in quel momento servono perché magari vieni da un lavoro che non serve più l'hai perso e ti devi formare per un lavoro che sta arrivando e mentre ti formi devi avere il reddito per far mangiare i tuoi figli e poi lo Stato ti fa tre proposte di lavoro se le accetti perdi il reddito se non le accetti perdi il reddito questo strumento è stato fatto passare come uno strumento assistenzialista ma parliamoci chiaro gli strumenti assistenzialisti erano quelli lì che abbiamo visto in tutti questi anni che la politica erogava sul territorio agli amici degli amici senza far nulla ma pure tutti i meccanismi della formazione regionale dei fondi che venivano elargiti a chi dicevano loro io voglio creare uno strumento di merito che permetta a chi perde il lavoro di andare in un centro per l'impiego e non subire più l'umiliazione di essere un disoccupato ma di trovare uno Stato che ti dà un percorso una via d'uscita per ritornare a respirare ritornare a vivere dignitosamente con la tua famiglia e questo strumento si chiama reddito di cittadinanza e lo realizzeremo costi quel che costi io so che siete una regione massacrata da tanti sprechi non voglio parlare a lungo ancora ma tre cose ne ve le voglio dire so che pagate una società dell'autostrada del Molise senza avere l'autostrada del Molise e su questo ci dobbiamo chiarire perché qui il tema non è autostrada sia autostrada no qui il tema è spendiamo soldi per fare opere o facciamo opere per spendere soldi perché sono due concetti totalmente differenti e sono quelli che hanno alimentato una serie di sprechi con i soldi e le vostre tasse per cui serviva quell'infrastruttura bene intanto creiamo una società mettiamoci dentro la gente nostra paghiamo gli stipendi per dieci anni poi se si fa l'autostrada si vede è un po' come il ponte sullo stretto di Messina l'avete visto e sentito nominare centinaia di volte l'unica cosa c'è e che girano centinaia di milioni di euro intorno a consulenze intorno a persone messe lì dentro che però non hanno realizzato ancora nulla allora qui in questa regione noi dobbiamo dirci quali sono le priorità e per ascoltare le priorità devi essere una persona con le mani libere perché devi sapere quali opere non servono e quali opere servono prendi tutti i soldi e li metti sulle priorità e oggi io so che il più grande problema è spostarsi nelle città per portare a scuola tuo figlio per andare a fare un qualsiasi tipo di servizio e tra le città mettendo a posto le strade esistenti che qui sono delle mulattiere molto spesso e lo dico e mi permetto di dirlo perché non è che dalle mie parti siano così eccellenti so che vi hanno massacrato la sanità vendendola ai privati era una scusa e lo sapete meglio di me che non c'erano i soldi era una scusa la verità è che se chi ti paga la campagna elettorale è quello della sanità privata quando vieni eletto vuole la sanità pubblica per farla diventare privata io prima ancora di affrontare questo dibattito perché per me la sanità è pubblica la sanità privata per carità io non la combatto ma deve fare il suo mestiere la sanità privata io devo assicurare i cittadini di poter sicurare quando noi parliamo della sanità pubblica dobbiamo dirci un'altra cosa che quando io vado a curarmi in un ospedale voglio a capo di quell'ospedale un manager un direttore che non deve ringraziare un politico per stare lì ma un concorso per stare lì se non togliamo alla politica la facoltà di nominare i manager della sanità la sanità lavorerà sempre per la politica e mai per voi e ne sappiamo qualcosa di queste cose qui e la terza cosa si chiama scuola io voglio garantire tre cose ai nostri figli che vanno a scuola che il tetto non gli cada sulla testa quando fanno lezione della loro aula che non facciano lezione in una classe da 30 studenti le classi pollaio e il terzo che il loro insegnante non cambia ogni sei mesi o ogni anno garantendogli una continuità didattica e per fare questo non dobbiamo fare un'altra riforma dobbiamo mettere i soldi nella scuola e i soldi ce li andiamo a prendere da tutto quello che non serve e vedrete che ci riusciremo se ci mettiamo all'opera regione e governo nazionale secondo me domenica ci dobbiamo fare due domande quando andiamo a votare una queste forze politiche vogliono il bene della regione molise così mi hanno detto tutti e tutti ci hanno detto così no? voi non conoscete un programma elettorale brutto non mi risulta come non conoscete un candidato che abbia detto voglio il male della regione molise allora come facciamo a sopravvivere ad una campagna elettorale? ci dobbiamo fare una domanda ma se tu che vuoi cambiare la regione molise l'hai già governata perché non l'hai cambiata quando la stavi governata? se trovate una risposta a questa domanda allora votateli altrimenti date un'opportunità ad Andrea Greco e poi c'è una seconda domanda che ci dobbiamo porre chi ti ha pagato la campagna elettorale? perché non si scappa da lì tu puoi presentare il programma più bello del mondo candidato di Forza Italia candidato dell'intera ammucchiata del centro-est mi puoi presentare il programma più bello del mondo ma se nella tua lista o tu stesso avete preso soldi dalla sanità privata dai soliti sistemi sugli appalti che vogliono legare d'appalto il giorno dopo dai soliti nullafacenti che vogliono soldi dallo Stato perché non sanno fare gli imprenditori onestamente ma sanno fare solo i prenditori e allora il programma tuo non vale nulla i temi che porti avanti non valgono nulla queste due domande sono fondamentali altrimenti rischiamo di apparire tutti quanti uguali perché i programmi sono tutti belli e la parlantina è stupenda di tutti quanti ma è la coerenza che fa la differenza e in questa regione non avete un candidato alla presidenza della regione Andrea Greco che come dicono tutti è uno nuovo che è appena arrivato Andrea è un profondo conoscitore della macchina regionale ci ha lavorato cinque anni nell'ultima consigliatura e durante quella consigliatura i nostri consiglieri regionali i due consiglieri regionali che avevamo hanno mantenuto fede ai patti tagliandosi gli stipendi e combattendo per la lotta ai vitalizi e agli sprechi adesso se domenica vi darete l'opportunità di andare lì tutte quelle proposte bocciate per cinque anni le facciamo e le approviamo in cinque minuti e ci andiamo a riprendere tutti i soldi che ci sono dipende da voi dipende da noi dipende da quanto crediamo in questo risultato di cambiamento io ci credo tanto e quando ho potuto in questa campagna da Roma sono venuto qui l'ho fatto un altro giorno per Andrea in un altro comune di questa regione l'ho fatto stasera rientro stanotte di nuovo a Roma ma sappiate che ce l'abbiamo messa tutta per far arrivare il messaggio a più molisani possibile lo avete già votato il movimento il 4 marzo la metà dei molisani ha votato per il movimento se gli stessi voteranno per Andrea Greco lunedì avremo la prima regione 5 stelle d'Italia grazie Andrea Greco wow che dite ce la facciamo uscire dall'oscurità guardate che l'oscurità non è l'assenza della luce l'oscurità significa perdere perdere il sogno che quella luce possa esistere e io a vedervi qui sono emozionatissimo e vedo e vedo nei vostri occhi quella luce vedo che finalmente siamo pronti per andare a riprenderci il nostro futuro lo vedo guardate domenica non siamo chiamati a una semplice elezione non siamo chiamati alla scelta di un nuovo presidente della regione molise no è ben altro è un referendum è un referendum tra il vecchio modo di intendere la gestione della cosa pubblica e un sogno è un sogno che può diventare realtà un vecchio modo di intendere l'amministrazione del molise che ha distrutto questa terra che l'ha resa arsa arida che ha costretto negli ultimi tre anni tremila molisani ad abbandonarla e non dobbiamo più permetterlo non dobbiamo più permetterlo agli sciacalli della democrazia dobbiamo ribellarci e sognare guardare quella luce con gioia con entusiasmo noi in questi giorni siamo stati veramente seppelliti da un'onda di gioia e io vi dico la verità sono troppo entusiasmato sono emozionato io vi ringrazio veramente a tutti quanti perché questi ragazzi per me sono degli esempi voglio ringraziare le ore le persone altrimenti dopo me lo dimentico tutti gli attivisti tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo a voi che siete dei guerrieri gentili dei guerrieri della rivoluzione gentile io vi ringrazio davvero e voglio ringraziare due persone che hanno reso possibile tutto questo uno è Beppe Grillo e l'altro è Gianroberto Casaleggio che sicuramente si stava guardando in questo momento da qualche parte guardate che siete di fronte a una scelta due visioni della regione molise due modi di concepire la gestione loro che hanno fatto si sono chiusi nel palazzo negli ultimi vent'anni hanno creato hanno fatto della politica un luogo del privilegio affamando tutto il resto io sono stanco io non voglio più vedere i miei fratelli non voglio più vedere i miei amici dove scappare da questa terra allora la prima cosa che dobbiamo fare immediatamente andare lì dentro io lo sto sognando l'ho detto sto sognando il giorno del primo consiglio regionale sapete che sto sognando di entrare lì dentro insieme a tutta quanta la squadra meravigliosa guardarli in faccia e tagliargli in cinque minuti un milione di euro dei costi della politica e metterli a disposizione delle piccole e medie imprese con quei soldi riusciremo a garantire la sopravvivenza delle aziende che vengono definite non bancabili cioè tutti quei soggetti che sono andati in sofferenza e guardate che in Molise l'80% delle aziende soffre di questa situazione ha dei gravi problemi perché non riesce a fare 3.000 euro di magazzino non riesce a comprare 5.000 euro di un nuovo macchinario quelle persone dobbiamo sostenerle altrimenti nei prossimi anni potrebbe esserci un collasso di quelle aziende il secondo provvedimento che faremo e lì mi sono anche anche io immaginato la scena perché ho immaginato l'associazione degli ex consiglieri regionali messa tutti dietro a quel vetro antiproiettile l'avete visto il consiglio regionale c'è un vetro antiproiettile dove io per 5 anni ho assistito a lavoratori a persone che reclamavano diritti diritti che venivano puntualmente ignorati voglio vedere per una volta dietro a quel vetro l'associazione degli ex consiglieri regionali mentre tagliamo 3.300.000 euro di vitalizi perché si può fare tagliamo i soldi tagliamo quei costi da dove non servono e li mettiamo dove servono a sostegno delle piccole e medie imprese molisane renderemo il Molise una terra dove fare impresa è sempre possibile sempre abbiamo un urgente bisogno di lavorare sulle infrastrutture pensate un po' noi siamo ancora costretti ad arrivare a Roma sull'ormai triste binario 20 bis parlano si riempiono la bocca di turismo siamo riusciti a fare più promozione turistica noi con tre ospitate in televisione rispetto a questi signori che in cinque anni di assessorato non hanno prodotto nulla nulla hanno portato le immagini del Molise alla fiera internazionale del turismo esponendo la muraglia cinese questo hanno fatto allora immediatamente ci attiveremo perché è possibile fare un hub a Rocca la Vindola arrivare lì con il treno a gasolio e prenderne uno elettrico che ci porti finalmente dentro la stazione Termini di Roma e metta fine a questa cosa indegna si può fare si può fare così si può fare attraverso l'utilizzo dei dei treni ibridi si può fare ma perché non l'hanno fatto? perché hanno messo sempre al centro della programmazione l'interesse di pochi piuttosto che l'interesse della collettività allora questo sarà importantissimo amministrare secondo giustizia cioè dare a ognuno ciò che è suo qui purtroppo hanno dato nel tempo a pochi ciò che era di tutti noi e dobbiamo dire basta questa cosa basta questo che vi sto dicendo lo abbiamo rilevato soprattutto nella sanità nella sanità sapete bene che il Molise purtroppo è stato una sorta di test io lo considero una sorta di esperimento sociale quasi a voler dire vediamo i cittadini finquanto resistono vediamo finquanto non si ribellano hanno progressivamente smantellato la sanità pubblica per affidare progressivamente al privato convenzionato che non è altro che il privato che paghiamo con i soldi nostri interi combatti attenzione attenzione noi non siamo contro la sanità privata lo ha detto Luigi sarebbe un abominio sarebbe assurdo sostenere una cosa del genere ma la sanità privata non si può sostituire alla sanità pubblica deve camminarle accanto deve integrare i servizi ma non può sostituirsi perché noi dobbiamo curarci della salute dei cittadini e non della salute degli azionisti e questo è il concetto che cambia ed è fondamentale abbiamo bisogno di iniziare da subito a lavorare su un nuovo piano sanitario il 2019 2020 e il 2021 possono fare la differenza per il Molise allora facciamo uno studio epidemiologico serio organizziamo la rete ospedaliera secondo un modello hub e spoke un hub centrale qui a Campobasso e lì dobbiamo essere bravi a far capire ma io sono sicuro che nei ministeri troveremo il Movimento 5 Stelle quindi capiranno quello che stiamo dicendo capiranno che in Molise data l'orografia del territorio abbiamo bisogno di un ospedale che possa curare un politraumatizzato ad esempio sarà importantissimo e oggi abbiamo questa opportunità abbiamo una filiera istituzionale che parte dal Molise naturalmente se ci davete l'opportunità però vedervi così in questo oceano di gente diciamo non mi voglio il numero se ci davete questa opportunità sarà bellissimo attivare questa filiera istituzionale che parte da qui e arriva fino a Roma avremo un'interlocuzione diretta e per questa terra è fondamentale il 4 marzo ricordatevi che gli abbiamo già tagliato tutti quanti i ponti con Roma lo abbiamo già fatto quindi basterà completare l'opera basterà completare l'opera dobbiamo metterci subito al lavoro per aiutare i giovani di questa terra a non andare via e come si fa? bisogna riformare tutto quanto il mondo della formazione professionale mettere in contatto le aziende i centri per l'impiego e il mondo della formazione dobbiamo formare i giovani per quelle che sono le esigenze delle imprese guardate a Termoli mi è successa una cosa c'era una persona che si occupa di meccanica di alta precisione e mi ha detto guarda Andrea io domani mattina potrei impiegare altre 30 persone però non ho personale qualificato non ho personale qualificato perché? perché la regione non l'ho ascoltato non ha attivato quei corsi professionali di cui faceva menzione Luigi ma si è impegnato a fare tutt'altro quindi la soluzione a certi problemi c'è perché non la vogliono adottare? perché il politico perché la politica ha imparato a frapporsi tra i cittadini e i diritti e spacciare quei diritti come delle gentili concessioni perché dovevamo andare dal politico con il cappello in mano a chiedere il favore del lavoro ad essere assunti per 300 euro al mese per 400 euro al mese per tre mesi ma quello non è lavoro quello è schiavitù quella è umiliazione a quello ci hanno ridotto e ora che fanno a scadenza elettorale a scadenza hanno precarizzato tutto il Molise è infettato dal lavoro precario che guarda caso questi contratti scadono tutti quanti a ridosso delle campagne elettorali quindi quando si arriva a ridosso delle campagne elettorali bisogna tornare dal politico nuovamente chiedere il favore di sopravvivere per altri tre anni per altri quattro anni è la realtà perché la conoscete tutti non ho bisogno nemmeno di raccontarvela perché la vivete sulle vostre spalle è così è così così come hanno utilizzato la programmazione europea Fabio qui abbiamo Fabio Massimo Castaldo che ringrazio il vice presidente del Parlamento europeo lo ringrazio tanto hanno utilizzato la programmazione europea per fare che cosa per diciamocelo senza timori ci hanno fatto la programmazione elettorale perché si sono calcolati le scadenze dei bandi a ridosso della campagna elettorale allora viene fuori che ad esempio l'elenco degli ammessi all'area di crisi industriale complessa agli aiuti per l'area di crisi industriale complessa è venuta fuori qualche giorno fa così come è venuta fuori la classifica degli ammessi al bando Molise che incanta qualche giorno fa possibile che tutto quanto scade a ridosso della campagna elettorale possibile che della programmazione 2014-2020 il Molise fino ad oggi ha speso il 9% delle risorse cioè su 156 milioni di euro abbiamo speso il 9% di quelle risorse perché si sono concentrati non ad aiutare le persone non ad aiutare le pubbliche amministrazioni e i cittadini ma a programmarsi la campagna elettorale è questo che hanno fatto continuano a dire anzi ma il programma il programma il programma mi sono tutti uguali io mi sono trovato guardate mi sono sentito umiliato in questi giorni perché sono stato costretto e l'ho fatto per voi sappiatelo l'ho fatto per rispetto vostro lo dovete sapere mi sono andato a confrontare con queste persone che poi si sedevano al tavolo e dicevano tutte le cose che dicevo io credo che mi registravano a un certo punto e di notte si mettevano il cindiro ascoltavano per capire che cosa dicevo quindi andavamo siamo andati da Coldiretti e i miei competitor facevano tutti quanti gli agricoltori siamo andati da Assoporto e i miei competitor facevano tutti quanti gli armatori cioè dovunque andavamo erano esperti conoscitori di tutte le arti ho detto scusate ma se siete così bravi in tutto quello che fate ma è possibile che avete desertificato una terra è possibile che avete desertificato un intero territorio poi parlano di noi fanno degli accostamenti strani parlano parlano di criminalità parlano di cose assurde e loro si fanno venire ad aprire la campagna elettorale non solo ad aprire ma a chiudere la campagna elettorale non c'è bisogno nemmeno di continuare no non c'è bisogno nemmeno di continuare perché non meritano nemmeno di essere nominati perché sono il passato perché sono il trapassato remoto allora guardate io io voglio dirvi una cosa una cosa ci tengo a dirvela perché su una cosa non mi va di essere preso in giro io vengo da un territorio io provengo dalle aree interne vengo da un territorio dove quando fanno due metri di neve nessuno è al sicuro quindi sulla sanità non devono scherzare sulla sanità non devono scherzare non devono andare sui palchi in televisione a dire che tuteleranno la sanità pubblica perché se sei alleato del più grande portatore di interessi nella sanità privata qui in Molise non potrai tutelare la sanità pubblica non lo potrai fare io vi voglio dire una cosa abbiamo di fronte l'armata del dissenso 180 persone che non vanno d'accordo con nulla non si conoscono tra di loro non si conoscono a me è successa una cosa simpatica che la racconto ovunque in pizzeria ero a Esernia mi avvicina una signora mi dice guarda ciao Andrea che piacere conosci io sono candidata con Tom io non ti posso votare ma mio marito e i miei figli ti votano tutti quanti quello è vero è così è successo veramente quindi abbiamo di fronte un esercito di sabbia un esercito di sabbia che si sgretolerà si sgretolerà perché poi attenzione di queste 180 persone questa ci tengo proprio a dirla perché mi devo sfogare di queste 180 persone hanno candidato in alcuni comuni ci sono più candidati che elettori è bellissimo è vero quindi hanno cercato secondo la logica del no candido il fratello il cugino il parente lo zio il nipote cerco di raccattare voti un po' ovunque guardate guardate che se io avessi mio fratello candidato accanto a Michele Iorio io gli direi non ti voto non ti voto perché questa legge elettorale prevede il collegio unico cioè un collegio che va da Capracotta fino a San Martino in Pensilis tra l'altro si vota esprimendo la doppia preferenza di genere un maschio e una donna quindi è come se una persona esprimesse due voti automaticamente automaticamente il quorum si alzerà tantissimo per essere eletti sarà necessario ricevere 5 6.000 7.000 voti e secondo voi di questi 180 chi ha la forza di avere 5.000 6.000 7.000 voti sono le stesse persone che il Molise lo hanno distrutto lo hanno raso al suolo e si chiamano Michele Iorio Gianfranco Abitagliano Filoteo Di Sandro Massimiliano Scarabbeo Vincenzo Niro e Vincenzo Cotugno queste sono le persone che hanno distrutto il Molise sono loro e poi si candidano per bene con il lista Michele Iorio appena fresco di condanna in secondo grado per abuso d'ufficio piuttosto che Massimiliano Scarabbeo che è stato capogruppo del Partito Democratico attenzione per 4 anni e 8 mesi capogruppo del Partito Democratico arrivata alla fine della campagna elettorale si sveste della maglia del Partito Democratico mette quella del centrodestra e scrive sui manifesti lealtà e coerenza questa è la barzelletta della politica questa è la barzelletta della politica tra l'altro tra l'altro che me lo dimentico sempre mi hanno detto di non dirlo in piazza quindi io non ve lo dirò durante lo scorso mandato lo stesso Massimiliano Scarabbeo è stato arrestato con un'accusa di presunta truffa ai danni della regione lo capite è questo il sistema sono loro che hanno la possibilità attenzione di essere eletti e questa volta però di finire all'opposizione perché al governo della regione non ce li manderemo mai guardate io a vedervi qui sento guardate che io a vedervi qui sento una forza incredibile sento una forza incredibile perché quello che stiamo facendo voi dovete immaginare che è un grande tiro alla fine siamo noi 20 da questa parte io e un gruppo di persone che sono straordinarie che sono ci sono delle professionalità incredibili vi giuro che io a volte impallinisco di fronte alla lista perché sono tutti incredibili siamo noi 20 da una parte della corda e dall'altra parte c'è tutto il sistema che ci ha distrutto in questi anni c'è il sistema che ha parlato di infrastrutture però ha pagato 3 milioni di euro per un consiglio d'amministrazione dell'autostrada per non fare nulla quel sistema che ha comprato un catamarano con i soldi del terremoto quel sistema che ha fatto il museo della patata turchese quel sistema che ha fatto il museo del profumo con i soldi del terremoto sta tutto dall'altra parte ok noi siamo di qua e stiamo tirando immaginatevi quanta forza possiamo avere se vi mettete dietro di noi e tiriamo più forte possibile tiriamo più forte possibile ora ci tengo Presidente 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 scusatemi perché già so che mi emozionerò un po' abbiamo scritto una lettera perché credo che queste parole non sarei mai riuscito a dirvele di getto quindi le abbiamo scritte eccoci qui tutti insieme noi e voi pronti ad afferrare un sogno fino a qualche anno fa sembrava impossibile sembrava che il molise fosse destinato a restare per sempre la regione che non esiste il poltronificio degli arroganti la terra dei poteri il pezzo di costa che è solo un passaggio per andare verso il sud o verso il nord poi ci siamo fermati abbiamo aperto gli occhi abbiamo osservato con più attenzione questi luoghi e ci siamo finalmente accorti della loro bellezza delle loro potenzialità abbiamo preso coscienza del fatto che questa terra veravigliosa non è il nulla è il tutto che il potere ha solo calpestato e ferito costringendo i suoi figli ad abbandonarla ci siamo guardati negli occhi ci siamo confrontati ci siamo informati e ci siamo resi conto che questa terra è stata ferita ferita due volte da chi l'ha governata con prepotenza ed egoismo e dalla nostra indifferenza dalla nostra rassegnazione dalla nostra dalla complicità di molti ci siamo guardati negli occhi abbiamo deciso che è arrivato il momento reagire o soccombere salvarla o lasciarla finire nelle mani di chi l'ha già sventrata prenderla tra le mani e farla rinascere o abbandonarla a se stessa lasciandola sotto le grinfie di chi ha in programma di continuare la politica di distruzione già cominciata vent'anni fa è questa la scelta e le scelte non dipendono dagli altri ma da noi stessi non possiamo più delegare sperare in chissà chi attendere che qualcuno decida di cambiare le cose e non possiamo sperare in chi ha mangiato sulla vita di questa terra no non possiamo sarebbe l'errore più grande il torto peggiore che possiamo fare alla nostra terra ora abbiamo la possibilità di scegliere e noi siamo pronti abbiamo unito le nostre forze le nostre idee le nostre esperienze le nostre competenze e abbiamo deciso che tra scappare o restare questa volta vogliamo restare e riprenderci ciò che è il nostro per la prima volta nella storia di questa regione un'alternativa alla politica della distruzione esiste davvero non ci sono più scuse entreremo in quei palazzi e rimetteremo noi stessi i cittadini al centro di tutto da quel momento da quel preciso istante la gestione della cosa pubblica cambierà radicalmente non si potrà più tornare indietro i vecchi metodi verranno spazzati via tutti i cittadini con consapevolezza riprenderanno tra le mani dopo anni di umiliazioni il destino del molise guardateci in faccia siamo quei giovani che per anni sono andati via sono stati costretti a fuggire a salutare i genitori e gli amici dal finestrino di un treno con gli occhi lucidi e la rabbia nel cuore perché una terra così bella è diventata un luogo da cui scappare e noi ci stavamo rassegnando a tutto questo ma questa volta abbiamo deciso di restare anziché fuggire di lottare anziché soccopere di metterci in gioco e non stare più in un angolo fermi a guardare ci siamo riconosciuti nei valori dell'onestà della dignità della solidarietà della comunità nei valori di questa terra e abbiamo capito che di fronte ai valori del bene comune non esiste arroganza che tenga che oltre al tempo non esistono altri limiti in grado di fermare una rivoluzione culturale pacifica gentile la nostra è già cominciata il popolo monisano per la prima volta nella storia di fronte a sé una grande possibilità cambiare per sempre le sorti di questa regione non ci sono più alibi unitevi a quest'onda inarrestabile e dal giorno dopo le elezioni saremo tutti coinvolti in prima persona nella rinascita della nostra terra ci rimboccheremo le maniche e cominceremo a lavorare con positività e abnegazione per curare tutte le ferite che da troppo tempo le sono state inferte basta un ultimo sforzo per poter ricominciare a sognare questa volta con un programma reale con la forza dei numeri delle idee concrete della volontà decidiamo se calare definitivamente il sipario su questa terra o se alzarlo e far cominciare lo spettacolo in cui questa volta gli attori saremo tutti noi decidiamo se sopravvivere finché sarà possibile o se cogliere quest'unica grande opportunità decidiamo se continuare a far calpestare la nostra terra o se cominciare a seminarla per raccogliere tutto il meglio che potrà offrirci decidiamo se restare nulla la regione che non esiste la terra di nessuno in cui l'illegalità è padrona in tutto o se prendere la matita e di fronte a quella scheda sentirsi responsabili del destino di se stessi dei propri figli e di tutti noi decidiamo se mollare la presa per sempre o se afferrare forte quella fune e tirare tutto insieme dalla nostra parte perché ora ora è il momento il momento di dire la nostra e di urlare con tutta la potenza che le nostre scelte assumono dentro quelle urne che in Molise un futuro esiste io vorrei invitare tutti i candidati a salire un attimo perché scusate ma vorrei invitare tutti i candidati a salire un secondo Fabio De Chirico di Campopasso Rita Santoro di Campopasso Alberto Gentili Paola Raspa Vittorio Nola Pierpaolo Terzano Marco Leva Angelo Primiani Luigina Nonno Pina Laezza Oreste Scurti Maria Luisa Angelone Adriana Niro e il più giovane di tutti Gianluca Monturano Grazie 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 Ah tutti gli altri aspettate scusate Vittorio Monaco qua è l'emozione che mi gioca brutti scherzi che non mi vedevo Stefania Gentile Valerio Fontana Pierluigi Caruso e Patrizia Manzo Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.